Glielo ho detto fuori onda, glielo dico anche qui amici di Radio Bruno, quanto mi piace la canzone di Rose Villain! Grazie, grazie, sono onorata. Metti tanta allegria, insomma, movimento e anche gli amici di Radio Bruno continuano a richiedere la canzone, ma come è nata? Guarda, è nata in una notte d'agosto in realtà, ci siamo svegliati io e 6PM, che appunto è il producer e anche il mio partner, siamo svegliati con questa melodia venuta da un sogno e avevamo una sessione quel giorno con Davide Petrella, che è un super autore, siamo partiti da questo sogno ed è nata, sogno premonitore vorrei dire. Veramente, il tuo primo Sanremo come stai gestendo, vivendo questa emozione? Guarda, sono stranamente molto tranquilla, cioè come se fossi al posto giusto, nel momento giusto, ho aspettato tutta la vita per poter avere un palco di questo calibro e proprio il mio corpo mi sta dicendo, sai che? Godetelo per un attimo, poi l'ansia tornerà dopo. Guardavi Sanremo quando eri piccina una canzone che magari cantavi, dicevi un giorno sarò lì e poi dopo è successo. Guarda, ho questo ricordo appunto di aver visto Luce, di Elisa, che lei era in bianco e secondo me Elisa è una delle ragioni per cui io sono qua oggi. E invece la ragione per cui ci sarà un duetto, anzi un medley strepitoso, è Gianna Nannini. Guarda, sai che finché non succede non ci credo, sono lusingata a dir poco, lei è una persona, oltre che un'artista incredibile, una donna forte con un messaggio e non avrei potuto essere affiancata da un desiderio incredibile per me che si realizza. Ma vi siete ovviamente già sentite, incontrate, che cosa ti ha detto, quali consigli? Ma lei proprio mi ha detto vai e spacca, anzi mi ha supportato molto durante anche i giorni prima del festival, mi fa il durante, mi fa il tifo, mi fa sentire proprio, mi fa vai e spacca proprio. E lei è così, lei arriva e è proprio click boom in persona. Ti ha dato quindi la sua carica rock. Ultimissima domanda, la cosa bella tua è che hai questo contrasto tra il dolce di Rose e poi c'è Villain, ma anche nella canzone c'è questo contrasto. Un po' è la tua personalità, un po' tante sfaccettature? Totalmente, io sono proprio entrambe queste cose. Secondo me con la musica ho incanalato di più la parte un pochino più graffiante, diciamo, perché poi nella vita appunto sono molto sensibile, attenta alle persone dolce, quindi ho trovato il mio modo per non esorcizzare, ma per far sfogare la parte più pazzerella, che è la musica. Quindi Rose nell'intervista, Villain sul palco? Esattamente. La meravigliosa Rose Villain, grazie. Grazie a voi, grazie.